Buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa del mattino Occhio ai giornali con i giornali freschi di stampa, giornali che troverete come sempre dal vostro edicolante di fiducia Noi ci rimetteremo a selezionare, ci siamo limitati a selezionare le pagine a nostro avviso più importanti e anche a commentarle durante questi prossimi minuti Allora c'è il Santo del Giorno, oggi la Chiesa ricorda la Beata Vergine di Guadalupe, una storia meravigliosa se avete possibilità e non la conoscete Andatela a vedere, a leggere da qualche parte anche su internet, il sole sorgerà alle 7.35 e tramonterà alle 16.31 Andiamo a vedere la pagina di trebimeteo.it, vortice ciclonico nel fine settimana ancora temporali, vento e neve su parte d'Italia Da lunedì tre guanti ciclonica ma dura poco, poi arriveranno anche le piogge e troverete anche le tendenze con le ultime novità Fino a Natale, a Capodanno addirittura 2021 Ma stando con i piedi per terra i giorni nostri, la previsione per la giornata di sabato, oggi della protezione civile delle Marche Prevede un cielo nuvoloso con nuvole medio-alte, seguita poi dall'arrivo di nuvole basse dalle ore centrali Nel pomeriggio avremo anche deboli piogge sparse sulle zone appenniniche e isolate altrove Per domani il peggioramento anche sulla costa centro-settentrionale con cielo di regolamento nuvoloso Con cumuli nuvole che arriveranno in ingresso dal mare Durante la notte al mattino brevi piovaschi sparsi Poi per quanto riguarda invece la giornata di lunedì, lunedì 14, avremo cielo sereno poco nuvoloso Con nuvole basse lungo la fascia costiera Condizioni di tempo stabile per l'inizio della prossima settimana I giornali, i giornali con la notizia d'apertura, ovviamente la cronaca Quel omicidio e suicidio che si è consumato in un piccolo borgo del Pesarese Siamo a Novilara e di questo parlano i giornali questa mattina La fotonotizia sulla pagina e l'edizione di Pesaro Di questa coppia che non c'è più, uccide la moglie e si butta nel vuoto Novilara aveva il divieto di avvicinamento, era uscito di galera da poco Lui si chiama Mourad, marocchino, 44 anni, ha coltellato Simona Porceddu, 41enne sarda L'uomo si è poi lanciato dalle mura del paese La tragedia, mentre le due figlie erano a scuola Il Corriere Adriatico sgozza la moglie e si uccide L'uomo, marocchino di 44 anni, dopo il delitto si è gettato dalle mura di Novilara Non poteva avvicinarsi alla donna e alle due figlie Simona Porceddu, 41 anni, è stata colpita in casa Il Carlino, le pagine interne, titolo Va dalla moglie e la uccide, poi si butta dalle mura Morto, lei lo aveva denunciato mesi fa per le botte ed era uscito di galera L'uomo era sottoposto al divieto di avvicinamento Ma ieri è tornato a casa e ha sgozzato la donna Le due figlie erano a scuola, ora sono invece in un istituto Nessuno si è posto il problema che il 44enne avesse ancora le chiavi Per entrare liberamente in casa Tre coltelli per finirla, l'altra pagina di questo omicidio-sucidio Ha tentato di decapitarla, i fendenti si sono concentrati in maniera ossessiva alla testa e al collo Murad e Simona sentiti spesso litigare anche negli ultimi giorni Lui continuava ad andare in via Sant'Egidio dalla quale doveva stare lontano Ma i vicini invece hanno riferito alle forze dell'ordine Che spesso lo vedevano lì sotto casa, lo vedevano lì vicino Mentre il Corriere Adriatico pubblica ancora una fotografia dei due Orrore a Novilara, sgozza la moglie e poi si uccide buttandosi dalle mura L'uomo non poteva avvicinarsi alla donna e alle figlie La donna, 41 anni, è stata raggiunta in casa e colpita I carabinieri sequestrano due coltelli Nei suoi confronti varie denunce per maltrattamenti in famiglia Era uscito dal carcere due settimane fa È stato trovato agonizzante Poi l'uomo è morto all'ospedale I militari vanno dalla compagna per informarla E scoprono in realtà che anche lei era morta Si è canito sulla vittima l'altra pagina del Corriere Adriatico Fino a quasi decapitarla, un omicidio di inaudita brutalità che ha sconvolto il piccolo borgo E qui si parla di un altro femminicidio Un'altra donna vittima di violenza Un rapporto difficile finito con un omicidio Un accanimento verso il corpo della moglie finito quasi a decapitarla Simona Porceddu, 41 anni, originaria della Sardegna È diventata cittadina marocchina dopo il matrimonio Ed era stata già in passato vittima di percosse e lesioni Tali da costringere il magistrato di sorveglianza Ad aggravare la misura degli arresti domiciliari Per Mourad, appunto, 44 anni Per lui era stato emesso anche un divieto di avvicinamento a lei e ai figli E parlando, come avete visto, l'attacco di questo articolo di femminicidio Quante volte campagne pubblicitarie, campagne di sensibilizzazione Tutti quanti, noi compresi, a parlare di femminicidio A invitare soprattutto le donne ad andare a denunciare A chiamare numeri verdi, azzurri, gialli, verdi, tutti colori L'importante è che le donne denunciino Credo che in questo caso, in realtà, sia importante invece un'altra cosa Che non viene assolutamente fatta E per la quale queste campagne rischiano di essere semplicemente Un po' fumo negli occhi Campagne di sensibilizzazione un po' fine a se stesse Che lasciano il tempo che trovano E che spesso non servono assolutamente a niente È vero ed è giustissimo e sacrosanto Che le donne trovino il coraggio E di denunciare i propri mariti, compagni, fidanzati, ex e quant'altro Ma lo Stato non deve limitarsi alla campagna informativa Di un numero verde o giallo Lo Stato deve poi fare in modo di proteggere Una volta che queste persone trovano il coraggio Di denunciare i propri aguzzini Lo Stato deve essere vicino a queste persone Deve proteggerle E deve avere un piano per proteggerle queste persone Altrimenti non serve a niente Dire denuncia e poi vai a casa tua e spera in Dio Non è così che funziona E su questo credo che bisognerà riflettere Altrimenti continueremo a parlare di femminicidi all'infinito Ma senza risolvere il problema Emendamento Salva Natale Andiamo avanti con la rassegna stampa Questa è la pagina del Corriere Adriatico Dove si parla della questione Della questione dei divieti, del DPCM Che per giorno di Natale, giorno di Santo Stefano E anche del primo dell'anno Ha delle regole un po' più stringenti Rispetto agli altri giorni Noi come Marche, lo sappiamo benissimo Lo sapete tutti Siamo in zona gialla Quindi una situazione di allarme moderato Ma comunque i divieti di Natale, Santo Stefano E del primo dell'anno valgono anche per noi Speranza frena Ma il governo conta di mitigare il decreto del pugno di ferro Acquaroli ribadisce No agli esodi Da una città all'altra E no anche ai cenoni Così si sanerebbe un'ingiustizia Mentre C'è il nodo delle diseguaglianze Tra grandi città e comuni È vicino al punto di svolta Vedremo come deciderà Di risolvere questa questione il governo Intanto da Ricci Giusto il rigore del DPCM Ma serve anche una mediazione La discesa sul fronte dei contagi La discesa lenta Lenta ma comunque c'è Migliorano i reparti ospedalieri Quelli ordinari Al netto dei test antigenici Un infettato ogni 4 tamponi Dimesse 44 persone Ci sono ancora le vittime Purtroppo 11 Invariati numeri in rianimazione L'indice RT risale Ma di un'inezia Veramente da 0,74 a 8 Quindi poca roba insomma Però mentre sette giorni fa Le Marche erano classificate Tra le cinque regioni A rischio moderato Con buone probabilità Di tornare nella fascia alta Ora è nel gruppone Invece di quelle regioni Che sono a rischio Soltanto moderato Poi c'è l'altro appuntamento Importante per i marchigiani Quello delle cinque giornate Dedicate ai test rapidi A tappeto Non servono le prenotazioni Basta un modulo E già si pensa Ai prossimi 10 comuni Perché si inizierà Con quelli con più di 20.000 abitanti Per poi procedere Come abbiamo già detto Con quelli più piccoli L'assessore regionale Saltamartini Alla sanità Sta definendo E ha avuto ieri Una videoconferenza Con i primi cittadini Di aria vasta E quindi con i vertici Dell'Asur Hanno illustrato Praticamente le linee guida Di questa operazione Che punta a testare Gradualmente 820.000 marchigiani In totale Quindi è un'operazione Che se andrà bene Come ci auguriamo Anche Non solo dal punto di vista Logistico Organizzativo Ma anche di risposta Da parte dei marchigiani Perché altrimenti Essendo su base volontaria Se non c'è La volontà Di farsi testare E' chiaro Che il test E questa operazione Serve a poco In realtà Ecco L'auspicio E l'invito Che facciamo Ormai da diversi giorni Anche noi Attraverso la televisione E' quello di aderire A questo screening Di massa E quindi Di farsi sottoporre Volontariamente A questo test Che è molto veloce Non è invasivo Si fa subito Ma che serve Per capire E tracciare Al meglio I contagi Poi Sull'altra pagina Allora Siamo A parlare Della situazione Negli ospedali Ieri Dunque A ieri Anzi I ricoveri per covid Erano in tutta la regione 576 Distribuiti Su 18 strutture Un numero A cui vanno anche aggiunti 32 pazienti Che sono In queste ore Nei pronto soccorso Di 7 Diversi ospedali Una situazione calda Certo Ma che Si sta cristallizzando Negli ultimi giorni Questo è il segno Che il virus È in frenata Chi esce Prima dal tunnel Di questo covid Lo vedremo Aree vaste C'è la riconversione Di ritorno Per i reparti Di malattie infettive Pronto uso Torrette Marche Nord E San Benedetto Invece restano i presidi Per le cure intensive Sull'altra pagina Invece Del Corriere Adriatico Anche qui screening Di massa Volontari divisi In base alle zone Di residenza A Pesaro Il sindaco Ricci Ha identificato Alcune aree Tipo Alla Vitri Frigo Arena Quindi i pesaresi Potranno fare Questi test rapidi Lì Così come Al campus Al campo basket Giovani E a Santa Marta Oggi c'è Il sopralluogo Di altri Luoghi scelti Non ci sarà bisogno Come abbiamo detto Della prenotazione Ci sarà soltanto Un modulo Che evidentemente Bisognerà Come dire Firmare E compilare Poi La replica Ai sindacati Del direttore generale Dell'azienda Spedaliere Marche Nord Capalbo Il personale E la sicurezza Da Marche Nord All'interno Di Marche Nord È Messa in atto Con tutte Le misure Necessarie Andiamo Andiamo per un attimo Sul Corriere Sul carrino Nazionale Perché Anche in questa rassegna stampa Qualche giorno fa Ma tutti i telegiornali Ne hanno parlato A un certo punto Era uscita Questa notizia Che il ministro Dell'interno Lamorgese Era positiva Al covid Addirittura Era stato interrotto Un consiglio Dei ministri Alla notizia Della positività Della ministra In realtà Adesso si scopre Che la ministra Lamorgese Non era positiva Al covid Dunque Dunque Un falso Positivo Un falso Allarme La domanda Che però Si pone il giornale Oggi È Ma questi test E qui non vorremmo Starci troppo Perché altrimenti Facciamo confusione E non è il caso Questi test molecolari Sono affidabili Oppure no E siccome fino a ieri Abbiamo sempre detto Che i test molecolari Sono quelli più affidabili In assoluto Adesso mettere Come dire A rischio Anche questa tesi Direi che non è il caso Può succedere Almeno una volta Su mille Che ci siano i contagi In laboratorio Che ci siano Come dire Delle situazioni Di contaminazione In laboratorio È successo evidentemente Nel caso Del ministro Lamorgese Andiamo velocemente Però a vedere Il titolo Dal Corriere Dal resto del carino Falso Falso allarme Lamorgese Non era positiva Test Agli asintomatici Precisi solo Al 60% Insomma Non è tanto Sbaglio Sul primo tampone Della ministra I due successivi Sono stati negativi E l'epidemiologo L'epidemiologo Dice La contaminazione In laboratorio Può capitare E può capitare Uno su mille Può capitare Una volta C'è la magazzione Uno su mille Ce la fai In questo caso Uno su mille Toppa Meglio non affidarsi All'uso indiscriminato Di questi screening Lo raccomanda Anche l'OMS Ora invece C'è un'altra questione Sulla quale C'è tutta L'italianità E l'estro Purtroppo In negativo Degli italiani Ovvero Quello dei veglioni Abusivi Che cosa sta succedendo In queste ore Sta succedendo Che anche nella nostra Vicina Rimini Stanno girando Degli inviti Molto Molto riservati Che arrivano Sulle chat Quindi Immaginiamo Instagram Scusate Telegram Piuttosto che Whatsapp E che cosa c'è scritto In queste chat Praticamente Sono inviti A partecipare A delle feste Una addirittura Dovrebbe essere Stanno indagando Stanno cercando Di capire dove E come Anche questa sera Ma ce ne sono In programma altre Comprese quella Dell'ultimo dell'anno Dove si stanno Organizzando Per appunto Sfidare Diciamo Le regole E comunque Festeggiare Con tanto di DJ A questo Ultimo dell'anno Si stanno organizzando Ci sono queste chat E questa notizia Oggi Trova Spazio A pagina 18 Del resto del Carlino Caccia e veglioni proibiti Questo è il titolo Passaparola sulle chat Per capodanno In ville E addirittura Capannoni industriali Con DJ E musica dal vivo Rimini Il sindacato Dei locali da ballo Dice Sono irresponsabili Chiaramente Mettono tutti A rischio Dove si svolgeranno Queste feste Ne parla Gianni Indino Presidente di Commercio Rimini Dice Dai messaggi che circolano Si capisce bene Che alcune feste Si terranno in abitazioni private Oppure ville Affittate per l'occasione Ma a quanto pare Qualcuno sta valutando Anche di fare Parti di capodanno In capannoni E strutture simili Ripeto Non è facile Riperire informazioni Perché gli organizzatori Si guardano bene Dal pubblicizzare Questi eventi Gli inviti però Vengono fatti In maniera mirata I potenziali interessati Con telefonate E messaggi su chat Sono eventi Per pochi Da quel che so Si può capire Da quel che si può capire Per 50 o 100 persone Al massimo Ecco E da quanto ne sappiamo Una si dovrebbe svolgere Proprio addirittura Stasera E stiamo cercando Di capire Insieme alle forze dell'ordine Esattamente dove E quando si svolgerà Questo evento Perché va Assolutamente Evitato Voi immaginate Un positivo In mezzo A 50 A 100 persone Anche In una festa Del genere Che cosa può Combinare Quale può essere Il risultato Ma Di questo Evidentemente Queste persone Non ci arrivano O non Non ce la fanno Insomma Ecco Tamponi di massa In arrivo Le aree saranno 4 Sempre Questa volta Dalla pagina di peso Del Carlino Modificare Alcune postazioni Rispetto alle indicazioni Iniziali Abbiamo detto Vitri Frigo Arena Così come campus Basco e giovane Alberghiero Santa Marta Sono i luoghi Dove si farà Questo screening Non serve Prenotarsi Ma compilare Un modulo Le date Lo ricordiamo A Pesaro Saranno dal 18 al 23 Dicembre E' morto Cesare Venturi Aveva contratto Il virus Se n'è andato Ieri a 87 anni L'ex esponente Della democrazia cristiana Nel 1944 Un'esplosione Gli tranciò le gambe Mentre raccoglieva L'uva Era già praticamente Morto A soli 11 anni Venturi Quando In una giornata Di mezzo ottobre Silenziosa Assolata Del 1944 Una mina Anti uomo Gli tranciò Le gambe Mentre tentava Di cogliere Un grappo D'uva bianca Da una vite Lungo i filari Del bel podere Dei suoi zii Mezzadri Lungo la via Pantanelli Che scorre Fra Pozzo Basso E Monte Labbate Rinacque Da quella tragedia Come solamente Le persone forti Tenaci Che non mollano mai Riescono a fare E nella giornata Di ieri Però Se n'è andato Per davvero A causa del covid All'ospedale di Pesaro Dove era Praticamente Ricoverato Ora i funerali Si svolgeranno Martedì In Duomo Alle ore 15 Lunedì invece Ci sarà La preghiera Del rosario Alle ore 18 E poi ci sono Le condoglianze Anche del resto Il caldino Alla moglie I figli Poi c'è un altro Lutto Che ha colpito La città Di Pesaro Addio A Ivo Monteforte Il manager Pubblico Se n'è andato A 68 anni Dopo una grave Malattia Diresse Amga Aspes E il grande Acquedotto Pugliese Tutte aziende Di servizi Di alto livello I funerali Si terranno Però in forma Strettamente privata Vini taroccati Con lo sciroppo Le perquisizioni Anche in città Siamo sempre a Pesaro L'inchiesta Parte dal Piemonte Con l'esecuzione Di nuove misure Cautelari Le fiamme gialle Hanno controllato Un locale Collegato Però A uno Degli indagati La pagina di Fano Invece del Carlino Si occupa Della nuova postazione Gentilmente offerta Da un imprenditore Di Fano Al Codma Di Rosciano Fino a ieri sera C'erano 657 persone In quarantena E di queste 340 positive A Fano E questa Casetta Che vi abbiamo Fatto vedere Anche questa struttura Che è stata realizzata Al Codma Che vi abbiamo Fatto vedere Anche nel nostro Telegiornale Servirà Anche per le vaccinazioni E questa è Una nuova location Per i tamponi Molecolari Ma non sarà Possibile usarla Per lo screening Di massa La sede dunque Va a Fano Va ancora Trovata Poi Case popolari Battaglia sullo speed Difficile per la gente Noi gli aiutiamo Del vecchio Contro la giunta Dice Le fasce fragili Non potranno attivarlo Questo speed Tinti dice C'è un servizio gratuito Di assistenza Tecnica Malore in strada Una storia Che viene raccontata Sulla pagina Di Fano Dell'arresto del Carlino Dove una donna Ha avuto un malore Nella giornata di ieri E qui si racconta Di come una persona Che si chiama Elisa Teodori Una soccorritrice Che si trovava Sul posto per caso E ha visto Praticamente Quello che stava Quello che stava accadendo Racconta In città Fanesi replica L'assessore Il regionale Baldelli Favorevoli A collaborare Per una grande Variante Alla statale Questa è la posizione Del comune Dell'assessore I rilanci Delle minoranze Sono definiti Suggestioni illusioniste Perché non sono Sostenibili Mentre Seri Dice la priorità Ora il casellino Di Fenile Consiglio In consiglio Sindaco infastidito Dall'interrogazione Del Partito Democratico Ribadisce Alcune criticità Variante Seri Bacchetta I consiglieri Del PD Il primo cittadino Non gradisce L'interpellanza Affermata Dai quattro Dem Inopportuna Verso di me E verso Il vice sindaco Fanesi Via da Serravalle Pedoni Esiliati Siamo sempre a Fano Commercianti preoccupati Per i lavori Ma il comune precisa Nel tardo pomeriggio La strada Sarà liberata Il litorale Da Fano Sempre esposto Alle mareggiate Le onde entreranno Nei capanni I timori di Osi Con fattigianato Per Ponte Sasso Arzilla E Baia Metauro Altri tratti Sono a rischio Colpita da malore Mentre passeggia in Vianofi Muore a 82 anni Inutile Il massaggio cardiaco Praticato da alcuni Testimoni In Tilti Invece Il sistema Informatico Sempre dalle pagine di Fano Gli utenti Messi alla porta Disagia Il palazzo di vetro Dell'Asur Il dirigente Mi ha detto Di rivolgermi A Gesù Cristo Il che non è che abbia sbagliato Ma lui bisogna che fa la sua parte E i suoi dipendenti pure Val Metauro Nuova casetta Per il drive-in Più sicurezza Per i tamponi Donata dall'azienda AC Engineering Alla protezione civile Concessa all'Asur Al Codma E quella che abbiamo visto Di cui abbiamo parlato Anche poco fa Il sindaco In questa fotografia Con le altre autorità Ieri davanti Alla casetta del Codma Dove appunto Grazie a questa azienda Guidata da Angelo Candiracci Gli operatori sanitari E i pazienti Potranno sottoporsi Al tampone E usufruire Di un percorso logistico Più funzionale E poi Da Fossombrone Grande stella cometa Sulla collina di San Lazzaro Lunga 17 metri Alta 6 Fatta dagli attivisti Della frazione Dunque si potrà ammirare Immaginiamo Da lontano Eccola qua Nella foto Qui piccola In basso Volontari della Croce Rossa Italiana Aiutateci ad aiutare Conto corrente bancario Per le offerte L'associazione ha distribuito Alimenti e buoni Mensa Sempre da Fossombrone A Urbino invece È matricole È boom di matricole Sfondata a quota 5.000 L'Università di Urbino Prima Nelle Marche Per nuovi iscritti La maggior parte Ha scelto Scienze biomolecolari Poi Studi umanistici Siamo in crescita Dice il Rettore Soddisfatto Da 10 anni Con un indice di abbandono Tra i più bassi D'Italia E poi Luigi Andreoli Che mostra I graffi Lasciati dai vandali Sulla sua auto Molti hanno scritto Dei post Denunciando casi analoghi Dunque a Urbino C'è questa Raffica di Autografiate in centro Adesso è caccia I vandali Con le telecamere Le lamentele Dei proprietari Non si può andare avanti così La polizia Dice Appena vi capita Però denunciate Immediatamente Insomma Non perdete tempo Da Senigallia Scoppia un nuovo Focolaio Nella casa di riposo All'opera Pia Mastai Ferretti Sono 34 Gli anziani Risultati positivi Al covid Mentre sono due Gli operatori Che hanno il virus Tutte le visite Sono vietate Mentre sull'arretramento Della ferrovia Il PD di Senigallia Va all'attacco E poi Laboratorio analisi Tenda contro la pioggia Caos all'accettazione Per uno stop al server Il covid Crea difficoltà Agli esercenti Per i tamponi Il progetto Brand per pergola Video emozionale Brochure Poi sotto invece Aprono la cabinovia E il rifugio Cotaline del Catria Oggi e domani Tuffo sulla neve Ma restano chiusi Parco giochi Piste da sci E seggiovie Dunque Anche se non si può sciare Però si può andare Per esempio Il rifugio Il rifugio delle Cotaline Del Catria Dove tra l'altro Ricordo che si mangia anche bene La luce risponde Nelle tenebre Con proarte di Mondolfo Le installazioni per Natale Nelle gallerie Senza soffitto Anche qui si parla di luminarie Da Senigallia invece Ancora Il Corriere Adriatico Arrivate in città Le travi in acciaio Dunque il ponte Ora può prendere forma Verranno assemblate E saldate Varo programmato Per il 17 dicembre Poi spazio ovviamente Al collaudo E poi Siamo alle pagine sportive Velocemente Il Fano Fano che fatica in attacco Ha battuto il tabù Della prima vittoria Ma c'è altro da migliorare Pochi Gli otto gol Realizzati Dai Granata Nel girone B Soltanto la fermana Ha fatto di peggio Barbuti Là davanti Sembra un po' Troppo isolato Ora un tour de force Che farà scattare Il turnover Il tecnico dovrà Dosare molto attentamente Le forze A disposizione Per la Visi Invece Dovrà essere La partita del riscatto Di Donato Oggi a Imola Si aspetta molto Dalla squadra E intanto Questa È la formazione In campo Oggi alle 15 Allo stadio Romeo Galli Arbitro Maria Marotta Di Sapri E poi la VL Con l'incontro VL Fortitudo Con tanti ricordi Serve il riscatto Repegia E l'anticipo Di stasera La Vitri Frigo Arena Non meritano L'attuale classifica Sarà difficile Dunque E comunque Insomma C'è un'altra Bella giornata Di sport Da seguire Ovviamente In televisione O sui social Sui mezzi telematici Non certo dal vivo Per quello Ancora bisognerà aspettare Ma Noi intanto Ci rivedremo Lunedì mattina Come sempre Con la rassegna stampa Alle 7 Stasera invece Con il magazine 7 per occhio Il meglio Delle notizie Della settimana Grazie per essere stati con noi Buona giornata E buon fine settimana A tutti